amici buongiorno siamo su faro direzione sassari per una novità molto importante oggi volte volate per noi perché diversi motivi che abbiamo trattato anche in qualche altra diretta in qualche altro video oggi cambiamo il nostro camper ne prenderemo uno nuovo già attrezzato con alcune cose che ci servivano e niente vi farò vedere fra poco cosa siamo andati a prendere stamattina non è neanche cominciata nel modo migliore perché vado ad azionare il telecomando per aprire la centralizzata funziona faccio due cosette devo richiudere la macchina col telecomando con il camper e non mi funziona e vabbè ok magari la batteria del telecomando si è scaricata la cambieremo vado a scendere la macchina non mette in moto batteria a terra quindi fortunatamente trovo un amico con i cavi per fare botte e mettere in moto ma mi accorgo anche che il morsetto del negativo c'è un morsetto a clip la batteria della macchina del camper e il morsetto del a clip del negativo è in pratica sganciato quindi molto probabilmente c'è stata una perdita di carica della batteria tanto che basta per non far riuscire a spuntare e mettere in moto quindi proprio stamattina è iniziato nel modo migliore forse non ci vuole lasciare farlo ma purtroppo il cambio è già fatto il paletto va via facci sognare speriamo a questa è l'accoglienza di campeni se ogni ogni mezzo venduto alla consegna con un bel vino spumante dolcetti addolciamo questa rendiamo più dolce questa giornata che non è iniziata nelle migliori amici ancora ciao e siamo entrati nel nuovo faro 2.0 adesso lo diamo ritirato e seguirà un video con tutte le spiegazioni e le presentazioni del capo adesso rientriamo a casa e ci sistemiamo un po' è stata una giornata abbastanza lunga e complicata grazie ancora a camperis e in particolare a monica per l'accoglienza per tutto quanto la preparazione del mezzo l'assistenza eccetera eccetera gentilissima la consiglio ok ciao amici a dopo ciao 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 ciao